A 60 anni dalla sua morte, Papa Francesco ha dichiarato venerabile Bertil Antoniazzi la giovane di San Pietro Mussolino scomparsa a soli 20 anni, una tappa importante del processo di beatificazione iniziato nel 2014, che vede protagonista una laica che nonostante la sua giovanissima età seppe trasformare la sofferenza in amore per Dio. Nata il 10 novembre del 1944, il suo calvario iniziò a soli nove anni quando fu ricoverata nell'ospedale di Vicenza per una grave infiammazione al cuore causata da una patologia reumatica. Nel 1961 iniziò a frequentare la prima media, ma l'aggravamento della malattia la costrinse a stare a casa. A soli tre mesi dai festeggiamenti di un altro comune vicentino, Brendola, dedicati a Santa Bertilla Boscardin, San Pietro Mussolino insulta per questa fase importante. La comunità di San Pietro Mussolino apprende con grande gioia la decisione di Papa Francesco nel decretare come venerabile la giovane Bertilla Antoniazzi, una giovane che malata fin da piccola dimostrò grandissimo coraggio nel sopportare la malattia senza mai lamentarsi, anzi avvicinando molti malati alla preghiera, alla fede cristiana e dando un grandissimo esempio di sopportazione e coraggio verso quella che è comunque sempre la bellezza della vita. La storia di Bertilla Antoniazzi rivive nella memoria di chi l'ha raccontata, di chi ha raccontato le sofferenze della giovane Vicentina dedicandole libri o raccolte di lettere e testimonianze.